Su le mani! A questo racconto c'era Diego Valtantuolo, Teoteo Ocoli, Giorgio Terruzzi, Gianni Mura, Umberto Eco, Piero Colabrico, Giovanni che conoscete benissimo di Aldo Giovanni e Giacomo perché Bazzi Cacarovigno abbastanza spesso per via dell'amicizia con il gruppo di un'altra storia. E appunto tutte le persone che hanno voluto esserci per ricordare il loro Beppe e per ricordare un amico, insomma quella era la cosa più bella. Andava a giocare con i Pland e siccome perdeva... Tranquillo dove... Io bravo, bravo. Vedo che è studiato. Ok, passiamo alle altre robe. Alle cattive abitudini Oh, oh, oh E ti passavi, con un carico, un flusso Eravamo alla stazione, sì, ma dormivano tutti E la mia banda suona il rock Per chi l'ha vista e per chi non c'era E per chi per il sultore abbia istituito e riconciliato anche un po' l'idea di una televisione diversa una televisione dove si potevano osare certi colpi di genio e certe sensibilità che invece oggi sono sempre più distanti una televisione molto più consumata e molto più uguale a se stessa è come il cielo e il mare alla prossima occasione spero ce ne siano altre grazie